Siamo qui con la professoressa Carmelina Loguercio, ordinario di gastroenterologia della Sun. Professoressa, siamo presenti qui a questo evento a Piazza Dante che prende in considerazione la salute, quindi la salute al centro di questo evento. E perché a Napoli ci vuole fegato? A Napoli ci vuole fegato per tanti motivi, ma la nostra interpretazione è che ci vuole più conoscenza sulle malattie del fegato. Perché le malattie del fegato sono, nella maggior parte dei casi, malattie prevenibili, con una corretta informazione. Sono malattie curabili e quindi se si previene e si cura per tempo, si evita poi di vedere un paziente magari a 50 anni con una cirrosi o col tumore del fegato. Quindi una corretta informazione aiuta, aiuta sul piano pratico, può salvare le persone che magari inconsapevolmente tralasciano un controllo del fegato. Perché fra l'altro il fegato non fa male, non dà segni di malattia, non dà sintomi che possono portare ad un controllo, ad una valutazione. E quindi poi magari si arriva tardi, si arriva già con malattie evolute o addirittura col tumore del fegato. Questo evento, l'importanza? È un momento ovviamente di incrocio con la società civile di Napoli, quindi già per questo è un evento che avrà il suo successo. Il suo successo è un momento in cui la sensibilizzazione rispetto alla salute diventa fondamentale. E nel segmento poi alimentazione e salute è chiaro che col diretti ci sta tutta. Visto il nostro percorso di un'alimentazione sana, proporre un'alimentazione tra l'altro italiana, nel caso in specie napoletana, campana, ci mette nelle condizioni di immaginare che la stagionalità è uno degli elementi che ci porta ad andare verso un'alimentazione sana. Ecco allora che col diretti non poteva mancare, a parte poi le relazioni importanti che abbiamo nel settore medico, proprio perché noi siamo convinti che un'alimentazione sana previene qualsiasi tipo di malattia. Siamo qui con Paola, una delle organizzatrici della cooperativa Lazzarelle, che si trova all'interno del carcere circondariale di Pozzuoli. Qual è il motivo della vostra presenza qui a Piazza Dante in occasione dell'evento a Napoli ci vuole fegato? Sì, siamo stati invitati perché praticamente abbiamo scoperto che il caffè aumenta le potenzialità sia dei medicinali, quando abbiamo fatto l'interferone per l'epatite C e diminuisce proprio la quantità di marcatori per le cellule tumorali, per le malattie del fegato e quindi bisognerebbe in realtà prendere più di 3-4 tazzine di caffè al giorno per diminuire quelli che potrebbero essere i fattori tumorali per il fegato. Siamo con il tenente Cortese, la presenza della Polizia Municipale in questa iniziativa che significato ha? Beh, intanto perché noi su questo tema siamo abbastanza sensibili da sempre, perché sulla strada cerchiamo di fare in modo intanto che chi assume alcol abbia poi successivamente l'intelligenza di non guidare, perché oltre ai danni che produce l'alcol per il fegato, ci sono dei problemi seri anche nella conduzione, per cui noi cerchiamo di evitare appunto di fare in modo che chi ha assunto alcol possa poter poi successivamente guidare.